Alessio Grillini aderisce a Italia Viva. L'ex consigliere comunale, esponente dell'ala moderata del centrodestra, prima in Forza Italia, poi nel nuovo centrodestra, candidato sindaco con il movimento civico di Io Feentino, ha sposato il nuovo progetto politico di Matteo Renzi. D'ora in poi, quindi, Io Feentino avrà una vita indipendente senza Grillini. Mentre stanno iniziando a formarsi i primi circoli, la nascita ufficiale del partito avverrà a fine mese dopo la Leopolda del 18-20 ottobre. A quel punto prenderanno vita anche le sezioni locali a Ravenna, Lugo e Feenza e si delineerà quindi la composizione sul territorio. È una scelta che è in linea con quello che è il mio storico, perché comunque questo nuovo movimento va a colmare un vuoto politico e questo vuoto politico è proprio quello che c'era a centro, nel centro. La mia collocazione geopolitica è sempre stata quella, quella di moderato, liberale, cattolico, riformista e credo che il manifesto di Renzi con cui propone questo nuovo movimento alla cittadinanza, all'Italia intera, credo che sia in linea con quelli che sono sempre stati i miei obiettivi, con quelli che è stato il mio trascorso politico. Quindi credo che sia tutto lineare, che ci sia veramente una logica profonda in tutto questo e credo che ci sia un azzardo positivo da parte di Renzi che ha stupito anche me nel fondare questa nuova avventura e credo che proprio questo azzardo meriti di essere supportato e quindi meriti la mia attenzione e il mio impegno. Non mancheranno le critiche da avversario del Partito Democratico di Renzi ora con Renzi in Italia Viva. Beh sì, diciamo che da uomo di centro-destra Renzi era un avversario politico, però ultimamente ha dimostrato anche di essere l'unico abile politico, di essere una spanna sopra a tutti gli altri politici. Credo che sia stato anche in grado di salvare una situazione oggi alquanto complicata, quindi di tamponare quella che era la crisi italiana e credo che con questa iniziativa abbia veramente messo in campo qualcosa di innovativo. Da avversario politico credo che sia invece diventato veramente, abbia fatto un salto di qualità forse dagli errori anche che ha fatto e sia diventato veramente politico con più spirito, con più carisma e anche più innovativo e per questo ho deciso di appunto fare questa scelta. È Renzi che si è esposto più verso il centro o è Grillini che diventa più moderato con un'apertura a sinistra. È Renzi che si è esposto sicuramente, allora io ho uno storico ben preciso, mi connoto nettamente a centro, non spostato a sinistra e Renzi ha dato un'apertura importante nel momento in cui non esistono più movimenti moderati a centro, centro-destra, ecco Renzi apre, è un'apertura importante che va, ripeto, a colmare un vuoto che è quello che secondo me, a mio avviso, racchiude un po' quella che è la maggioranza degli italiani che oggi erano un po' spaesati, persi, confusi e votavano più per quello che in quel momento era lo spot elettorale più forte piuttosto che per ideale. Ecco, forse in questo modo parlando di temi seri, concreti e con un tono moderato e fattivo forse, ecco, riusciamo a tornare a parlare di ideali, quindi a riportare gli italiani che prima erano un po', ripeto, confusi, a un percorso netto e convincente. La Leopolda nascerà, arriverà a fine mese, quindi la nascita ufficiale di Italia Viva sarà a fine mese, giusto in tempo percorrerà le regionali e le comunali difenza, quali sono i programmi di Italia Viva in questo senso? Adesso tutto in costruzione, ci sarà modo e tempo di confrontarsi, con più persone aderiranno, con più sarà facile anche lavorare, quindi auspico veramente un'adesione di massa. Per quanto riguarda le regionali, non credo che Italia Viva scenderà in campo in maniera effettiva, quindi non ci sarà uno schieramento fisico. Per quanto riguarda le comunali c'è tempo, quindi è presumibile che invece ci saranno comunque delle evoluzioni, ad oggi però ecco, la mia è un'adesione, la mia è quella di un team di persone che comunque mi sono vicine, però non è dato sapersi né cosa si farà né come si farà, quindi tutto è un'evoluzione. Quale invece sarà l'impegno di Grillini, che l'abbiamo visto negli ultimi anni, è sempre stato impegnato in prima fila anche candidato sindaco? Grillini è cambiato, è cresciuto, è maturato anche politicamente e sicuramente voglio dare un contributo, non necessariamente voglio stare in prima fila, l'importante è lasciare qualcosa di buono per la città e costruire qualcosa di buono per la città sicuramente e comunque per il territorio. Partendo da qui tutto quello che viene è positivo, però diciamo questa è la base di partenza.